Un successo è il patto regionalizzato della Regione Lazio. Per il secondo anno tutti gli enti locali hanno infatti rispettato il patto di stabilità. Quest'anno il premio Euro d'Oro è andato alla provincia di Rieti, che ha ceduto la quota più importante di patto dell'intera Regione, 12 milioni di euro, e al Comune di San Felice Circeo, che è stato, tra i comuni, quello che ha utilizzato al 100% la quota ricevuta dalla Regione. A consegnare il riconoscimento la Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, durante la presentazione. Con lei gli assessori regionali al bilancio Stefano Cetica e i rapporti con gli enti locali Giuseppe Cangemi. Un successo la seconda edizione praticamente del patto regionalizzato. Quali i risultati? I risultati sono importantissimi. Sono 450 milioni che lasciamo sul territorio, tra quote di patto ceduti, pagamenti ai piccoli comuni e crediti erogati. Direi che per il secondo anno consecutivo la Regione raggiunge l'obiettivo zero di comuni che rischiano il dissesto. Siamo arrivati. I comuni che ogni anno rischiavano il dissesto andavano da 2 a 18 negli ultimi anni. Quindi un risultato importante. Un risultato che abbiamo potuto raggiungere in assoluta sintonia e collaborazione con il Ministero dell'Economia, con le province e con i comuni del nostro territorio. Quest'anno la provincia di Rieti riceve il premio Euro d'Oro perché ha ceduto la quota maggiore di patto, 12 milioni, e il Comune di San Felice Circeo perché raggiunge la quota zero. Ha utilizzato tutta la quota di patto che noi abbiamo lasciato nella sua disponibilità. Quindi direi un impegno che prosegue con performance sempre migliori. Quest'anno siamo a quota 47 soltanto milioni non utilizzati. Partivamo da un dato che era superiore ai 300 milioni. Quindi in due anni grandi risultati. In questo momento a Pian del Ulmo c'è la Commissione parlamentare d'inchiesta, in Consiglio regionale, con un consiglio straordinario sui rifiuti. Sì, io sto tornando appunto in Consiglio dove sono stata tutto il giorno. Cercheremo di portare avanti una posizione unanime della Regione che è l'unica istituzione che negli ultimi due anni ha messo in campo quelli che erano strumenti necessari per i quali il Lazio aveva una procedura di infrazione avviata. Quindi il piano rifiuti. Abbiamo dato indicazioni anche alle province rispetto al piano di individuare le aree secondo le quali, in base a dei criteri appunto stabiliti dal piano stesso, è possibile ubicare impianti di smaltimento dei rifiuti. La provincia di Roma nei giorni scorsi lo ha inviato al Comune di Roma che in questo momento è in difficoltà. Quindi direi che la situazione rispetto al documento di individuazione preliminare dei sette siti della Regione oggi è mutata. Ci sono altre 12 località individuate dalla provincia nelle quali il Comune può fare la sua scelta. È una situazione diciamo mutata rispetto a strumenti che questa giunta ha messo in campo e che si attendevano da almeno otto anni. Direi che i risultati sono entusiasmanti. Noi come Regione abbiamo rispettato il patto di 8 milioni. Complessivamente siamo sotto i 50, quindi meno di un quarto di quello che era due anni fa. Quindi vuol dire che ci stiamo veramente avvicinando al massimo che possiamo fare. Tradotto per i telespettatori significa che la Regione non butta via i soldi ma riesce a spendere tutti i soldi che il patto gli consente di spendere sia a livello di provincia che a livello di Comune che a livello di Regione e quindi a pagare le imprese e le persone che lavorano nelle imprese. In sostanza vogliamo spiegare meglio che cos'è il patto regionalizzato? È un modo intelligente per gestire una cosa stupida che è il famoso patto di stabilità imposto da Maastricht a tutti gli Stati e quindi poi dagli Stati e anche alle Regioni. Significa che bisogna stare dentro determinati tetti di spesa. Questi tetti vengono determinati a prioristicamente per quanto riguarda il Lazio sono stati determinati nel 2008 e corrispondono a una fotografia ormai sbiadita del 2005 quando per una serie di motivi che non so che spiegare la Regione comunque aveva un saldo molto diverso dalla realtà. Per questo motivo oggi noi abbiamo un massimo di spesa di 1 miliardo 980 milioni come Regione complessivamente. Questo che vuol dire? Vuol dire che se noi togliamo 700 milioni di interessi che paghiamo le banche, 700 milioni che paghiamo per il TPL, 500 milioni di stipendi e di spese incomprimibili siamo già a 1 miliardo e 900 milioni. Quindi avremo soltanto 80 milioni per fare tutto il resto. Un'autentica pazzia. Anche perché rispetto agli impegni che abbiamo questo tetto ne copre soltanto il 44%. Le altre regioni stanno al 90-92%. Quindi stiamo lavorando su questo versante. Nel frattempo, con il Governo, nel frattempo stiamo evitando di sprecare anche quel poco tetto che abbiamo perché a volte non si riesce a spenderlo tutto per una serie di motivi e poi i comuni a loro volta hanno lo stesso problema. Le province hanno lo stesso problema. Allora la Regione Lazio che cosa ha fatto? E oggi quello che ha fatto la Regione Lazio due anni fa lo sta facendo tutta Italia. Abbiamo fatto una specie di stanza di compensazione tra Comune, Regione e Provincia. Quindi mettiamo insieme questi tetti che abbiamo, per quanto stupidi, e cerchiamo di gestirli in modo intelligente. Cioè quanto devi spendere tu davvero quest'anno? Ecco, in base a quella spesa che tu puoi veramente pagare se ti manca la quota di patto, se ti mancano i soldi, te li dà la Regione. O viceversa. Non è che i comuni prestano i soldi alla Regione. Sono i comuni che attraverso la Regione si prestano i soldi fra loro e se mancano la Regione ci mettono a sua parte. Ecco, Assessore, ci sono novità invece sul riparto del Fondo Sanitario che era stato bloccato dal Governo? No, purtroppo no e questo ci preoccupa tanto perché vuol dire che il Governo forse si sta predisponendo a manovrare anche su qualche cosa che noi abbiamo contabilizzato. Cioè noi contiamo su quei soldi che sono già molti meno di quelli che ci servirebbero. Siamo molto preoccupati, speriamo che il Governo non faccia quello che noi temiamo e che si riesca a portare a casa quel riparto per il quale, anche come Lazio, ci siamo fortemente battuti in conferenza delle Regioni portando a casa un buon risultato. Quest'anno l'Euro d'Oro del patto regionalizzato alla provincia di Rieti e l'altro al Comune di San Felice e Circeo. Qual è la sua soddisfazione come Assessore agli enti locali? Beh, intanto perché abbiamo premiato una provincia o un comune che hanno dimostrato di sapere investire bene i risorsi, soprattutto hanno dimostrato una grande solidarietà l'anno scorso. Quindi questo rapporto solidarietà e capacità di spesa hanno dimostrato che i nostri comuni, le nostre province, se motivate e se sostenute dalla Regione, possono veramente dare molto. Quindi una grande soddisfazione. Sto premiato un comune medio, un comune sostanzialmente medio come dimensione e come popolazione e una provincia importante come la provincia di Rieti. Per quanto riguarda il nuovo patto regionalizzato 2012, cui lavori tecnici partiranno nei prossimi giorni, ci saranno delle novità in merito alla premialità regionale e alla gestione del patto orizzontale nazionale. Inoltre, dal 2013, saranno soggetti al patto di stabilità anche i comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.